Nel mirino delle fiamme gialle questa mattina è finito l'ufficio Contratti. L'indagine è scaturita da una indagine interna. Il nuovo blitz ha calamitato l'attenzione di numerosi cittadini. La Guardia di Finanza non rivela se al momento ci siano o meno persone indagate. Il blitz è scattato alle 11.30. Le fiamme gialle sono comparse all'improvviso in comune a San Salvo, visitando diversi uffici e sequestrando materiale cartaceo. Tra gli scatoloni riempiti, la visita è stata preceduta da una perquisizione a domicilio, fatta ad un dipendente. Sulla vicenda c'è il massimo riservo anche da parte della magistratura. A tal proposito, il comune di San Salvo ha diramato un comunicato. Per evitare confusione e notizie incomplete, si segnala che questa mattina diversi militari della Compagnia della Guardia di Finanza di Vasto, si legge nella nota, su delega della Procura della Repubblica, hanno eseguito un decreto di sequestro di documentazione relativa all'attività di un ufficio comunale nel periodo compreso tra il 1998 e il 2012. La segnalazione era stata inviata dal comune di San Salvo nel 2013 alla procura nella quale si evidenziavano presunte irregolarità nella gestione di alcuni atti amministrativi. La nostra segnalazione, conclude la nota del comune, alla procura di Vasto, è stata fatta nell'interesse generale dell'ente, a tutela di tutti i cittadini e per il rispetto della legalità. Sarà la magistratura ad acclarare eventuali responsabilità penali, ha commentato il sindaco Tiziana Magnacca.